Suor Cristina canta nel musical Sister Act. La vincitrice di The Voice 2014 interpreterà Suor Maria Roberta nel musical ispirato all'omonimo film. Dopo un lungo silenzio dalla sua vittoria a The Voice, Suor Cristina torna alla ribalta con il teatro. Proprio in questi giorni si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo che sbarcherà in Italia a partire dal 10 dicembre al Teatro Brancaccio di Roma. La pièce è tratta da un musical di successo americano, a sua volta ispirato all'omonimo film di Emile Ardolino. Nel cast, al fianco di Suor Cristina, che lo ricordiamo interpreterà la timidissima Suor Maria Roberta, ci saranno Belia Martin nel ruolo di Dolores Van Cartier, Pino Strabioli nel ruolo di Monsignor O'Hara e Francesca Taverni nel ruolo della madre superiora. Suor Cristina, al secolo Cristina Scuccia, intervistata da Il Giornale, ha commentato Credo che Papa Francesco mi appoggerebbe perché la Chiesa deve accorciare le distanze con la gente. Che Dio benedica questo musical, non esiste luogo in cui non possa arrivare il messaggio di Gesù.